ma c'è una semplicissima cassa e dimostriamo che fra non troverà la wonder ma troverà un semplice scherma di merda bene comunque dalla sotto jambu si compra la mg 42 a 3000 e secondo me è un buon prezzo cosa hai trovato la reagan la scimmie perfetto bene vabbè io l'ammazzo è pronto alla morte preparati jambu abbiamo trattato la corrente senza uso di video e vorrei farlo valutare c'è l'ha trovato fra più che altro ok poi me lo freghi anche dai un'arma 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 fra 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 vai jambu sono morto fra tre due secondi uno stai fuori tu fra come 300 di spa allora un'arma non è una buona idea ora dai che prendo una e via ti però non questo cosa ti hanno il garanti ottima la wonder prendi la wonder ok ok sono a posto pphs ok ppsh intanto ma non mi porta eh vabbè sono uscito sulla porta e c'era lo zombie perduto ecco vabbè le emata non servivano arrivo arrivo se non aspettavo a prenderle no 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 fro ok bella boba buona io ho il jug e adesso siamo invincibili si adesso vedo che non ti voglio e adesso si può andare un po' avanti arriviamo ad una mia voce da 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 stolto all'interno c'è una scena di che no visto bisogna provare ad aprire le varie porte no 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 oddio qua giù c'era il corso della del tizio ve lo ricordate e nella corrente no 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 aprite sta porta jambo apri sta porta per favore o un momento ho un problema tanto è inutile no no aprila ti ricordi che qua quale quale quella di mattoni questa 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 ti ricordi che qua l'ultima volta si era formato un buco perchè adesso non c'è eh perchè bisogna attivare qualche no no l'abbiamo attivato cioè c'era un altro scritto something special is causal for you eh che ne soia is waiting for you forse erano i pulsanti si beh no è che no è che c'era un tizio la sotto che andava con la corrente e faceva qualcosa ecco è l'ultima cosa che manca dico bisognerebbe attivare la corrente di andare l'abbiamo già attivata la corrente e attivate le torrette ma cosa? vabbè costa di big money eh appunto facciamo l'ultimo round attivando così magari le torrette succedono in endgame non uccidete lì oh corri corri dai corri corri ce la fai vuoi che muoro? vuoi che muoro? cosa? no non vado metto no non vado muoio so già ma c'è un lanciafiamme? cos'è che sparo io? ah non lancia granate bello cazzo si si inutile ma bello inutile ma bello io sono un no frasi sei messo davanti approfittane del fatto che sei ancora qua perchè tra un po' crescerai e ti spegnerai al pc per dire qualche parola importante che tutti potranno ricordare ecco quando non ci sarai più ti ho voluto bene è stato un onore essere nei video di tutti e nei vostri cuori ricordatemi con me un amico nerdoloso wag boy wag boy di The Skate e da Jambu è tutto ci risentiamo al prossimo video bella bene così quando crescerà voi vi ricorderete questo e siamo tutto e quando morirà accidentalmente in un futuro prossimo mi rimetterò questa frase che appena detto così mi farò il big 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 like nel video tributo verso l'italia video tributo ho fatto calpare va eh 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 vabbè dai guardata se ave voce ti canterei quella di laurenti qual è io so Luca e laurenti eh hey 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 ah se non so se poi non penso sia non so se di laurenti o seppure di laurenti la canta e basta se l'hai inventata e di morire no che brutto è mamma mia ma perchè hai perso la voce vedi di così non viene zombie qua ha fatto uno a invitarmi anche se ero offline su steam i misteri di steam anche a me mi invitano tanto da steam offline boh va capire oh ma perchè non riesco a girarmi sta succedendo al mio mouse bene io devo andare sotto a comprare le munizioni vedi con me dai sono rimasti in 10 no perchè io sono ho finito proprio tutto adesso io vado giù oh posso andare a bere grazie io vado giù io mi immagino un po' di tirami su chissà che mi fa meglio per la voce no io voglio fare una cassa è tanto bello tirami su benefico io mi pagano pancia il ppk no 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 non dirmelo non dirmelo non dirmelo non dirmelo eh culo è inutile eeeh vada bene forse è meglio no ma perchè sali da la stavo cadendo la cosa perchè sali da la eeeh no sono andato a prendere il mio no 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 fermo aspettami io stesso io stesso io ora stesso gli faccio cagare dai basta non è possibile eeh già un buco è fatto attivare sto schifo scusa ti butti niente eh non è partito a me non va perchè si deve ricaricare come ogni portale vabbè vada a bere vada a bere non devo andare a bere ah scusa vabbè a parte questo non dirmelo no no io non l'ho ancora vista quindi potrei ancora credere che tu non l'abbia presa non dira e che l'ho presa io no che non l'ha presa nessuna che era una semplice reagan infatti è una reagan vero fra che è una reagan è una scimmia ah no quella l'ha presa sto morendo c'ho doppia scimmia c'ho otto scimmie si si era era una tirane una per zombie si esatto tirane una per me subito merda tento di venire a salvarti ma ma si prendiamo anche l'empo appena comprate ma vabbè non voglio vedere nessun flash mentre giamo Mirian ma eh vada a terra ma che cosa anche negli ultimi 5 5 5 cosa ah bene ok peta già lo prendo dopo non vorrei mica andare giù di nuovo no ma infatti sto mandando giù me la mostri anche ma le altre dimmi hai detto che non ci credevi caro fra tu devi capire che c'è una bella differenza tra tra l'avere qualche fortuna occasionale all'essere sculati e basta tu sei sculato e basta non credo non credo non è un managgio ha ragione già un giocati una schedina fa qualcosa perché perché tu hai le possibilità di farti big money veramente uno scherzo ogni tanto compratelo un gratta e vinci quando non ci vinci ricordati di noi e se vinci soprattutto ricordati di me che te l'ho consigliato e anche di Jambu no no mi ricorderò di Jambu per il computer e gli zombie per il viaggio in Sicilia a testa di cavallo a testa di cavallo regalami il viaggio in Sicilia e vengo volentieri e soprattutto la testa di cavallo in diamante allora ragazzi quest'estate le trovo in Sicilia eh quest'estate si e per forza io vengo a Milano e andiamo giù in aereo così andiamo in macchina si mi sembra un'ottima idea quella tua col tuo boli non arriveremo mai più tre ragazzi dispersi in Milano no no tre ragazzi rapiti dalla cosa nostra oh ma guarda che sto teletrasporto da schifo non va eh zombie zombie non funziona vero secondo te come sono andato a finire dietro di te? no 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 fran prima Jambu c'è entrato dentro e è stato teletrasportato sopra come sono teletrasportato? io sono entrato dentro adesso oddio che non è venuto in terra no no non attivo sono depressi temperature 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 come siamo Jambu? Jambu? Jambu è un brutto ping ragazzi temperature temperature mi sa che gli si è spento un computer bisogna fare un discorso logico su le temperature mi sa che l'abbiamo perduto si l'abbiamo perduto un minuto di silenzio caro Jambu è stato una bella esperienza e soprattutto è stato interessante il fatto che ragazzi l'ha detto eh temperature temperature e è sparito bene signor zombie bene fra allora io mi farei un po' di casse poi sopravviverei un po' ecco qua e niente lo faremo in onore per tutti i BSC mi ricordo di Jambu ricordatevi eh però non fare casse al posto mio ricordatevi la bellissima frase che che Jambu va detto prima di no 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 ha cambiato la Wunder no no la scimmia mia la Wunder mia la Wunder ce l'ho ancora la Wunder è la scimmia che ho cambiato vabbè le ho prese io non preoccuparti tanto quello che andrà a terra sei tu giusto? sì pensavo che tu avessi cambiato la io oh browning MG bellissime armi per correre proprio l'ho fatta apposta per correre perché la mia persona sta camminando a caso povero Jambu povero Jambu guarda zombie il personaggio si sta muovendo a caso guardalo vorrei che ci oddio non riesco a non riesco a usare il mouse e il telefono assieme un walk del personaggio ma noi aspettiamo perché magari il nostro Jambu tornerà su TS continuiamo a avere la speranza che Jambu minchia rientrerà su TS io tiro un monotov tra un po' sempre si avrà il coraggio soprattutto di riaccendere il suo pc dopo che gli si spegne a caso ma si lo riaccenderà tanto non dipende dal dipende dal giocare è un peccato però che ci cresce così eh si mi dispiace povera zombie zombie a mucca esatto ci sto lavorando non vi dico neanche il casino che ha fatto lui cioè proprio da dei primi non puoi usare la wonder una bomba aspettiamo che sponino ok penso siano già sponati eh si sono chiuso no sono uscito bene se l'ho fatta colpiscono colpiscono eh colpiscono no ti osservano non è black ops 2 la bomba non è black ops 2 che gli zombie gli zombie ti osservavano non lo beh se io voglio andare a aprire la porta qua perchè hm hm ah qua si possono comprare le max ammo mi ricordo e poi qua strano che non nelle custom up in tutte quelle che stanno facendo io trovo le bunder ma non le rega hm si è vero lui trova sempre le bunder ma rega neanche una tu sei fatto per la bunder cioè da non credere oh ma che cazzo io non trovo un cazzo in generale cioè quello che vuoi quindi ragazzi preoccupate il prossimo video che farà la zombie sarà sul mio account e io sarò sul suo per testare questo ieri abbiamo registrato una nuova custom up voi però non l'avete ancora vista perchè uscirà dopo questo video eh e e non voglio spoilerare cosa è successo lì ecco ci farà il trailer non vi preoccupate ci farò un trailer veramente da non credere potrete intuire l'epicità di quel no no l'epicità di quel momento non è paragonabile a niente che poi ero senza voce ovviamente anche ieri quindi eh non potevo urlare e cazzarmi né niente è che no no ma aspetta la cosa bella è che lo dico in un momento epico quando io dico ho fatto centro ho fatto io il centro si si lui ha fatto centro comunque ho ho preso il teletrasporto per sbaglio e sto tornando indietro figata funziona va una volta per round sembrerebbe il teletrasporto non di più si salve signor zombie salve le uccido un po' gli zombie se permette le do una mano vai vado io a accumulare adesso devo correre però se non mi chiudono oh guarda quanti sono signori siamo soltanto al 13 cazzo si qua sono tantissimi cioè non dovremmo suicidarci secondo me ci arano cioè sono veramente tanti e sono anche incazzati sono anche più incazzati del solito fra i sensi noti devo comprare la speed cola costarmi ora mi frego devo andare a bere lui ha sete lui ha sete vuole la coca cola lui vuole la coca cola tirami su qua di fiadetto da mangiare poi sto bene con il mio trucco per prendere la butter bevete tanta coca cola si esatto lui beve coca cola io ne bevo moderatamente quindi è probabile che ultimamente sto prendendo gli estate al limone gli estate al limone a me piacciono gli estate al limone parecchio io bevo sempre non ho un pacchetto da bere anzi prenderò quello io bevo sempre te al limone te alla pesca te io bevo sempre te coca cola solo quando mangio pizza o cose così no 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 ma non c'è lì fermati ok ok stai calmo però te l'ho getta una molotov fermati non ti incazzare vai la precisione oddio ne tengo io lo tengo io vai vai e mi lasci morire una molotov no vado a prendere la spircola più che altro fai veloce che non muoia io ricevuta se muoio io sono cazzi ok spircola qua qua c'è la song dov'è lo zombie ah è qua che cazzo pensavo fosse la tua fra jambu 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 mi ha scritto crash mi ha scritto li scrivo spento cioè me l'ha scritto anche dieci minuti fa ma io bene 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 preso molto bene fra eccoci qua allora il mio estate ora mi do mi soffio il naso vada vada allora allora bene comunque jambu buono jambu mi ha scritto che gli si è spento il computer mi ha scritto crash io gli ho scritto spento mi ha risposto di si quindi conferma temperature temperature spento il computer e jambu l'hai chiamata tu qui invece eh mi dispiace signore signori una colletta per il signor jambu best no perché ha troppo sfigo ultimamente lui e tu sei sculato lui ha troppo sfigo lui ha sfigo tu sei sculato a prescindere perché tu hai un pc acer e ti funziona da dio e avere degli acer che vanno senza problemi è un miracolo fidati sei sculato è già questo ti fa capire quanto ho culo io tu ti sei in tutto non so che dire a scuola ma proprio mi faccio cagare quando io leggo i commenti dove ci sei ma io odio fra per il suo culo anch'io mi odio io 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 primo o poi ti rimuoverò dagli amici e non avrò più nessun contatto con te ricordatelo per adesso però mi serve ancora dopo quello che ti ho fatto spendere per venire a trieste così a cazzo vabbè ma vabbè quello l'ho fatto volentieri però il fatto che tu abbia culo non mi fa non mi fa averti tra gli amici volentieri ecco però ti voglio bene quindi non posso rimuovermi voglio parlarvi dell'ultima che ho fatto di quello andate a vedere il secondo canale Worms ah Worms andate a vedere il secondo canale Worms ecco no comment che hanno vinto per un solo verme gli avrei fatto disinstallare veramente Worms no comment vedi che siamo pari non abbiamo ancora fatto la Worms è vero è vero quando c'è Debe quando ci sarà Debe e ci saranno Debe e zombie contro me e ci sarà quella berna io lo farò disinstallare Worms dovete sapere ragazzi che a me che io voglio bene a Fra quindi non posso non posso rimuoverlo ecco se no l'avrei già fatto l'avrei già fatto da tempo ha sempre avuto da un mese forse perché quel video là l'abbiamo fatto un mese ha sempre avuto culo lui sempre ha avuto culo sempre sempre no no sempre già anni fa già anni fa ma era meno evidente ma era meno era meno evidente era meno evidente si è vero avevo culo ma c'avevo i miei momenti no 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 sto morrendo eh Fra col Browning non riesco a correre nei tantissimi sono veramente tanti è uno scherzo Fra sono tantissimi Fra preoccupati Fra usa la Wunder Fra hai la Wunder per qualcosa Fra sei nella merda Fra sei nella merda ti ripeto che se vai giù sei nella merda Fra sei morto ci penso io Fra ne arrivano tantissimi Fra ne arrivano tantissimi Fra sei morto eccolo sono colpito con la Wunder sono riuscito a vedere sono riuscito a vedere la tua morte Fra non avevi non avevi speranze eri bloccato ragazzi finisce qua questa custom map finalmente siamo riusciti ad attivare la corrente bene ragazzi grazie a tutti per aver guardato questo video aspetta però prima aspetta un minuto di scienza per poi un minuto un minuto Amen comunque probabilmente per quando voi vedrete questo video forse non avrà già risolto ma starà risolvendo quindi ragazzi grazie a tutti ci risentiamo ai prossimi video io vado a riposare la voce perché sennò qua mi esplode la gola grazie a tutti ciao 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 a tutti